Un appuntamento ormai classico che quest'anno è stato particolarmente sentito. L'Accademia CEMAR ha celebrato il quindicesimo anno del percorso X-Men, il primo, senza Giancarlo, tra i professionisti più apprezzati in provincia di Frosinone e tra gli ideatori di questo ambizioso progetto. Stimato e ben voluto da tutti, Giancarlo Straccamore, titolare di un salone alle mole bislete ad Alatri, è venuto a mancare lo scorso dicembre, lasciando a familiari, amici e colleghi, grande sconforto e tristezza. Ricorre il quindicesimo anno del percorso X-Men. Quest'anno è un anno particolare perché oltre al quindicesimo anno ricordiamo anche una persona a noi cara che è stato uno tra i primi a credere nel progetto X-Men che purtroppo nel 2019 ci ha lasciato, Giancarlo Straccamore, che è il nostro primo affiliato. Alla memoria di Giancarlo è stato dedicato l'appuntamento dello scorso weekend. L'Accademia CEMAR ricorderà la figura di Giancarlo ogni anno. Annualmente faremo in modo di ricordare la figura di Giancarlo Straccamore con un evento e grazie anche alla collaborazione dell'Accademia di Adema di Milano di Fabio Messina che ci ha dato questa opportunità che 15 anni che stiamo facendo questo percorso insieme. È un percorso di successo a livello stilistico per i barber sia della provincia di Latina che la provincia di Frosinone.